Oggi, grazie a Tisca News, parliamo di un'innovazione per la casa per l'arredamento che arriva dalla Toscana. Stiamo parlando di Blocco, un mattoncino in legno che si può assemblare l'un con l'altro senza l'utilizzo di colle o collanti nocivi. Infatti i mattoncini si avvitano, si possono avvitare, svitare, riutilizzare. Un'innovazione fantastica ed ecologica. Blocco è nato dalla mente creativa di un uomo che ha lavorato nella sua fagnameria per più di 50 anni, Sergio Martinelli e Camagliore, che è una seda. Pensate bene, si è sognato Blocco. Al suo risveglio ha studiato, ha guardato su Google, ma poi dopo anni di ricerche è riuscito nel 2011 a prevetarlo. Guardate le infinite forme che potete fare con Blocco. Curve, linee, pareti, supporti per il bagno. Potete sbizzarrirvi e sfruttare al meglio ogni singolo spazio. E se siete dei bravi bricoleri potete usarlo anche voi.